Oggi pomeriggio presso il comando provinciale dei Carabinieri, conferenza stampa del colonnello Gianluca Valerio per il consultivo 2015 sull'attività dell'arma. In tendenza con l'ultimo triennio i dati positivi della nostra attività operativa hanno continuato ad aumentare in direzione ovviamente di percentuali significative. Commentavamo prima in conferenza stampa che in direzione degli arresti eseguiti oltre il 10% ha rappresentato l'aumento di quest'anno e così per le segnalazioni a piede libero e così per tutta l'attività di repressione ma anche di prevenzione in direzione soprattutto del numero delle pattuglie espresse sul territorio che è notevolmente aumentato rispetto al passato. Ecco, ma una cosa importante di cui avete parlato è anche la partecipazione da parte dei cittadini in quest'opera della sicurezza. Assolutamente, qualificare il controllo del territorio per noi non ha significato solamente aumentare la presenza sul territorio stesso ma bensì coinvolge la popolazione con forme di comunicazione non solamente per ovviamente alleviare quella percezione di insicurezza che purtroppo si sedimenta a seguito dei fatti di cronaca che si sosseguono ma anche in direzione di un coinvolgimento diretto con quello che è un apparato di sicurezza che deve contare fondamentalmente sulle informazioni da valutare insieme, da approfondire con una rinnovata capacità da parte nostra ma anche delle altre forze di polizia di spiegare, manifestarsi, chiarire su tutto quello che è importante conoscere per poter aumentare la sicurezza. Ovviamente il lavoro dei carabinieri non si ferma. Quali saranno gli obiettivi da mettere in campo nel 2016? Il 2016 per noi sarà un anno particolarmente significativo e delicato non solamente per una situazione della sicurezza nazionale e internazionale che è profondamente cambiato proprio in direzione delle priorità da affrontare ma anche per le strategie e le risorse che dovremo destinare ad ognuno dei importanti settori del controllo del territorio innanzitutto e delle forme di ripressione della criminalità in senso più generale. All'apice dei nostri obiettivi noi vorremmo porre la tutela delle vittime vulnerabili come sicuro assioma di quello che da 200 anni è il rapporto tra noi e la popolazione. Per noi controllare il territorio significa innanzitutto proteggere chi ha bisogno di quel territorio e quindi pensiamo sicuramente alle donne abbandonate, indifese, pensiamo sicuramente ai minori, pensiamo agli anziani, pensiamo a tutti coloro che rappresentano la parte debole di questa popolazione e che non più degli altri ma sicuramente prima degli altri avranno bisogno della nostra assistenza.